Una gara tra i talenti di Masterchef, una mystery box da scoprire e un formato di pasta voiello con cui realizzare il piatto perfetto. A condurre il gioco Spiros, primo Masterchef italiano. Solo il più votato dal pubblico conquisterà la vittoria e si aggiudicherà il premio in palio. Un corso di alta formazione presso ALMA, la scuola internazionale di cucina italiana. Chi sarà il primo voiello Master of Pasta? In questa puntata nella cucina di voiello Master of Pasta cucinerà Valentina. A Masterchef non è andata come sperava, ma ora è qui per vincere. Ciao Valentina, ben arrivata. Grazie mille, felice di essere qua con voi. Qua ho messo dieci ingredienti che secondo me ti piaceranno molto. Sono curiosissima come sempre. Ora, prego, vai. Vado? Vai, vai, vai. No, la triglia. La triglia non poteva mancare. Triglie e melanzana, che sono gli ingredienti che ti hanno eliminato. Mi perseguitano. Fontina e peperone piemontesi come te. Poi c'è anche il pecorino, le olive, il basilico, pomodori sardi e fasolari. Manca l'ingrediente fondamentale che è dentro a questa scatola. Andiamo a scoprire qual è? Vai, vai, vai. Wow. Voiello. Mafalde. Per te, mafalde corte. Come vedi che hanno questa forma arricciata, molto elegante come te. Grazie. Tempo di cottura 9 minuti, che è il tempo che hai a disposizione per preparare a chi suga lato. Ti bisogna fare in fretta. Bisogna andare in fretta. Io sono sicura che ce la fai. Possiamo perdere tempo. Valentina ha 9 minuti per preparare un piatto di mafalde corte con gli ingredienti della sua misteri. Ce la farà? Sì, la butti la pasta di tempo parte. Questa magari uso la melanzanina con la buccia che ti dà anche un po' di colore più carino. Esatto, sì. Poi è buona la buccia perché la devi togliere. È croccantissima. Non potemi scherzi voi. Cosa li fai questi? La fabbia, non è che mi fanno degli scherzi. Ah, vedremo. Anche il pomodoro. Sì, ho esagerato. Continuiamo a esagerare. Questo per la melanzana? Sì, per la melanzana, peperoni e pomodoro. Poi il pomodoro lo aggiungo ai fasolari una volta aperti. Sì. 9 minuti sono 9 minuti, però possiamo far vedere che anche 9 minuti si può fare un piatto eccezionale. Ce la fai. Non mi sento contare anche tu, eh. No, 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 no. Lo triti il basilico con le olive. Questo va cotto o no? No, 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 no. Così dopo quando salti la pasta. Sì, sì, assolutamente. Le triglie le butti. Le mantecatura, le taglio solo pezzetti. Le piccoli, vedi che non mi hanno deguso. Assolutamente perfetti. Dai, Valentina. Anche belline croccantine. Deciso per il fontina, pecorino, nulla, tutte e due. Forse no, nulla. Manca un minuto, Valentina. Ci sono, ci sono. Sono super carica. Ultimo filettino? L'ultimo, l'ultimo, dai. Abbondiamo. 5, 4, 3, 2, 1, basta. Stop, Valentina. Salta la pasta. Non ti resta che infiantare. È colorata, no? La spolveratina. Hai pensato il nome del piatto, Valentina? Passione di triglia per le mafalde. Mi piace. Brava. Complimenti perché hai utilizzato quasi tutti gli ingredienti della misteri. Grazie. Ma sarete voi a decidere se sarà Valentina la prima voiello master of pasta. Vota la creatività, la preparazione, l'impiattamento e la passione. del piatto di Valentina. Anche tu avrai la possibilità di vincere un premio esclusivo.